Inserisci una bottiglia e ricevi subito un buono sconto per fare la spesa. Palagianello scopre il Mangia Bottiglie, un sistema che mira a rivoluzionare il modo di intendere la raccolta differenziata, almeno per quanto concerne plastica e alluminio. Giovedì 2 agosto è stato inaugurato in via d'Azeglio il primo dei due ecocompattatori previsti sul territorio comunale. Il sistema, come detto, è molto semplice. Ad ogni inserimento di bottiglie in PET, flaconi come detersivi o shampoo e lattine in alluminio, il Mangia Bottiglie rilascerà uno scontrino sul quale saranno indicati i punti ambiente, validi come buono sconto per fare la spesa. È anche possibile utilizzare la propria tessera sanitaria come contatore personale per accumulare e memorizzare i punti ambiente, al fine di stampare lo scontrino in un secondo momento. Veniamo agli sconti. L'elenco completo delle attività commerciali di Palagianello, che aderiscono all'iniziativa di tutela ambientale, sarà consultabile nei prossimi giorni sui cellulari grazie all'app Riciclia, attraverso una semplicissima registrazione. La finalità più importante è quella di creare un incentivo verso la popolazione, verso tutte le fasce, dai bambini agli adulti e agli anziani, che attraverso questo strumento si sentono incentivati a fare e a migliorare la raccolta differenziata, che già ha delle performance importanti, superiori al 70%, ma che con questo ulteriore incentivo sicuramente andrà a migliorare, perché è educativo ma allo stesso tempo incide sulla tasca dei cittadini che si vedono un ristoro, che possono spendere nelle attività commerciali, locali e convenzionati, quindi un minimo di economia circolare che viene messa in atto. Una iniziativa che si va a replicare in due punti della nostra città, un punto vicino al comune di Palagena, al municipio, e l'altro nei pressi di Corso Grammici. Quindi finalmente il rifiuto che viene visto come risorsa e non come un problema. Queste sono le basi della nostra politica ambientale.